Ciao a tutti dal cellulatore, una grandissima sorpresa. Eccomi qui a No Pet No Party con un grande, io ti faccio tantissimi complimenti. Ecco qui l'opera del maestro Guido Daniele. Ho fatto una mano bellissima. Ho fatto un dalma, che gli abbiamo messo un nome, che si chiama? C'era tre i nomi, Peggy, Edoardo e l'altro Polo. E Polo, ecco qui il maestro Guido. Prego maestro, un saluto. Ecco qui, in diretta, una dedica del grande Edoardo Soffa. E io accetto molto volentieri che tu hai un grande coraggio, una grande forza. E quando lui interviene, non gli dovete fare nulla, perché lui fa per le cose fatte bene. Ecco, c'ho seguito il salutatore e ho una propresa per te, la manina del salutatore. Ecco qua che salutiamo tutti i tuoi fans che ti seguono e facciamo un appello, ovviamente, a favore degli animali. Trattateli bene e siate rispettuti. Grande Edoardo. Ciao, grazie, ciao.